. Lady Gaga, 20 minuti di silenzio in live streaming per meditare Lady Gaga ha organizzato 20 minuti di meditazione su Instagram Live per aiutare tutti coloro che hanno voluto unirsi all'evento a ritrovare l'equilibrio dopo un evento sconvolgente come quello di Las Vegas Lady Gaga invita alla meditazione. La pop star di Bed Romance ha recentemente dichiarato di essere affetta da una malattia cronica che rende la sua vita un inferno, la fibromialgia La meditazione, per lei, è diventata un momento essenziale in cui ritrovare se stessa oltre il dolore, ecco perché la cantante ha deciso di organizzare questa meditazione collettiva Per aiutare chi, pur assistendo da lontano, ha perso la sua bussola interiore davanti agli orrori di un simile evento Per 20 lunghi minuti, Gaga ha dunque continuato a ripetere un mantra speciale, raccontando ai Little Monsters i benefici della meditazione, I am calm, I am ligt, ripeteva la cantante. Sono calma, sono luce Dopo il momento catartico, Lady Gaga ha ringraziato i suoi fan, spero che abbiate apprezzato questo momento tanto quanto l'ho apprezzato io. Questo tipo di quiete e meditazione mi aiuta davvero a ritrovare la salute mentale, e penso che sia importante Se potessimo concentrarci ogni giorno su noi stessi, saremmo tutti più calmi, sempre più calmi, e il mondo diventerebbe di riflesso un luogo più tranquillo ogni giorno. Siamo un solo corpo, siamo tutti interconnessi fra noi Vi adoro, e la mia salute migliora ogni giorno, un poco alla volta Un angolo di silenzio in un mondo che grida. Lady Gaga ha organizzato l'evento qualche ora prima, pubblicando su Instagram la foto del suo tatuaggio sul polso, che rappresenta un simbolo di pace Per chiunque voglia unirsi, sto organizzando 20 minuti di meditazione barra silenzio barra preghiera su Instagram Live per calmare i cuori La mia intenzione è quella di fornire un luogo dove tutti noi avremo la possibilità di connetterci, un luogo di pace e quiete interiore. Siamo un unico corpo, possiamo guarire l'infiammazione della Terra trovando la pace Se deciderete di meditare con me, vi spiegherò perché questa pratica è così importante, così che possiate seguirmi al meglio Fate in modo di trovarvi in un luogo oscuro e silenzioso, ma andrà bene ovunque, quello che conta, adesso, è stare insieme. I am calm, i am ligt, i am love, i'm ok, recito il mantra di Lady Gaga Se deciderete di meditare con me, vi spiegherò come utilizzare un mantra. Solitamente ne alterno due, e valuto quello che ha un effetto più calmante sul mio corpo Se non volete usare un mantra, il silenzio e la preghiera andranno ugualmente bene. Quello che conta adesso è restare uniti, in pace Grazie